e c'è tutti ragazzi benvenuti in questo video sono senex e oggi signori siamo tornati su tropico sei nella nostra super mega isola che sta andando alla grande se non fosse per quel piccolo problema come già detto dei rivoluzionari dei rivoluzionari ma ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando dobbiamo aumentare la percentuale di popolazione che supporta i rivoluzionari e lo stiamo facendo per l'appunto allora continueremo ad assecondare le loro richieste come sempre intanto vediamo qua le rotte commerciali a che punto stanno aspetta 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 abbiamo assi e ferro al momento che stiamo commerciando quindi andrà andiamo a fare del room che ci costa anche un bel po' un po' di tabacco si anche perfetto ok adesso mo raga allora abbiamo 94.000 simoleon e andiamo veloci dai andiamo belli veloci perché abbiamo fretta ricerca, biblioteca, alloggi gratis, circo, impiegato del mese, lavorate... ma non c'è qualcosa che possa... che possa aumentare un attimo la questa cazzarola di percentuale non lo so però al momento no credo colonia penale segni familiari no 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 al momento no stiamo producendo però del pesce per i rivoluzionari ok allora vediamo cosa possiamo fare di altro dei ranch famo dei ranch dai che ne abbiamo non ne abbiamo tantissimi immagino ne abbiamo da questa parte a nord della dell'isola devo avere delle scelte vero? allora completa la rotta ok si questo lo stiamo già facendo lo facciamo sicuramente ranch di pecore ok famo qua un po' di ranch dai così più che altro ragazzi per aumentare un po' la popolazione che è molto ridotta qua famo maiale famo anche vediamo il lama si può sì ok no perché non c'entra per un soffio mannaggia vabbè qua mettiamo il maiale qua mettiamo un po' di capre beh mettiamo qua le caprette ok qua famo un po' di case come sempre dormitorio uno dormitorio due qua mettiamo anche una bella tavelna guarda qua 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 ok qua mettiamo anche un bel parco un bel due per due no il due per due te lo butto qua e qua ti butto un parco due per uno perfetto ottimo ah benissimo non ci sono più alberi di cocco perfetto ottimo non abbiamo più cocco e che fa momo? piantagione di cocco? no aspetta è la piantagione piantagione di cocco e non so più dove metterla raga e basta è finito il cocco è finito non è che per forza ci deve essere cocco vabbè la mettiamo qua dai così perfetto famo a sta strada ok fatto ride completato salva benissimo lo abbiamo salvati e famo un altro ride mandiamo salviamo chiunque salviamo istruite salva molti vabbè salviamoli molti così magari tra la gente che salviamo ci sono anche qualcuno che supporti le idee le nostre idee rivoluzionarie 800 800 abitanti abbiamo intanto eh non sono neanche troppo pochi però intanto raga non bastano a quanto pare circo di verna teatro dell'opera teatro vabbè andiamo col teatro che non ce l'abbiamo mi sa ok questa è l'entrata lo mettiamo sempre dalla parte del del palazzo reale ovvero il nostro ovviamente ok mettiamo qua il teatro così magari i turisti quelli più ricchi possono trovare qualcosa più adatto alle loro conoscenze culturali oh mettiamo anche qua dei parchetti un parco 2x1 pure qua perfetto certo c'è il teatro e poi c'è la miniere di ferro non è molto normale però vabbè oh qua non ci stanno più alberi di cocco risorse desaurite vabbè a questo punto questo lo possiamo devolire ragazzi perfetto è qua che ci mettiamo vediamo se ci possiamo mettere un range che più o meno è la stessa dimensione e dove stanno qua range pecora no pecora è un bel cocco grillo un bel cocco grillo lo possiamo mettere no è troppo grande mannaggia oh eh aspetta allora un bel cocco grillo no e dobbiamo demolire questa casa se demoliamo questa ci dovrebbe entrare un range di cocco grillo no vabbè aspetta ok l'ha demolita sì grazie un range di cocco grillo me lo metti per favore sì grazie oh aspetta però qua famo altre due case perché già c'era anche una baracca eh un bel no un bel palazzo no una casa casa dove sta la casa qua no ma sbaglio sempre porca miseria porca dormitorio qua oh e poi famo villa di campagna qua e una bella taverna qua eh che cazzarola un'altra bella casa di campagna eh villa di campagna sì la mettiamo qua oh e dovremmo essere a posto qua c'è anche una bella baracca aspetta che la leviamo eh no questo è sempre il palazzo ho detto no dormitorio vabbè non so quale sia il dritto e il rovescio però va bene lo stesso villa di campagna questa la mettiamo qua è un parco uno per uno questo lo buttiamo qua così riempiamo proprio tutto lo spazio e qua c'è un'altra piantaggio questa la possiamo demolire tutte ragazzi queste le possiamo demolire tutte perché non c'è stana mazza piantaggio di cocco ah no qua ancora c'è qualcosa però come vedete ci sono un sacco di di baracche qua la vostra rivoluzione è ancora un po' sì dammi 10 immigrati dammi dai però è forza che palle quanto ci vuole hai immigrati e dai andiamo se è una svegliata no porca miseria oh vediamo se qua ci entra anche un bel ranch pecora ok di essere non ci entra però qua le pecore ci vanno abbastanza ok andiamo di pecore va quotidiano biblioteca biblioteca un'altra biblioteca possiamo mettere proviamo a mettere un'altra ma da questa perché cazzo non c'entra qua la biblioteca non lo so porca miseria non so più che fare per mettiamola no ma già ce n'è una che è qua ne mettiamo un'altra vabbè io la butto qua la buttiamo qua dai vabbè proviamo non è vicinissima ok noi dobbiamo amare i rivoluzionari signori non possiamo fare una allora il tuo mandato è a tempo la rotta che c'è di nuovo ma intanto la rotta commerciale ah no perché l'ho messo quella sarà meglio che mi presti sono sofia ortega l'ignobile rivoluzionaria ed ecco cosa mi affligge la mia gente oppressa non otteniamo benefici dai nostri eh sì già lo stiamo a fare ok intanto qua finiamo la rotta commerciale del room benissimo benissimo aumentiamo il mandato beh hai fatto una cosa 18 mesi e lo so regà cari rivoluzionari però che devo fa eh io capisco che non vi sono simpatici questi ma si aspetta a voi famo un po' di maice dai fermiamo il contratto eh però rivoluzionario mandatemelo qualche qualche missione da fare no no niente però adesso niente va bene noi continuiamo siamo però al 50 il che non è troppo male ragazzi con un po' di missioni potremmo riuscire ecco la qua basta con sto pesce ah rivoluzionario e che palle vediamo se ne possiamo costruire un altro così ci sbrigiamo produrre sto cazzarola di pesce eh non stava però molo dei pescatori oh no solo qua solo qua qua niente non c'è più poi sta tutto nelle altre isole forse l'unico qua potrebbe essere vediamo qua è inutile perché poi non potrei costruire la strada l'unico ragazzi è farne un altro qua vediamo non so se effettivamente serva a qualcosa ma noi ci proviamo ovviamente aspetta un attimo eh no questo un attimo te lo devo demolire un attimo eh mo te lo rimetto non vi preoccupate la allora molo dei pescatori si ok perfetto e qua c'era l'attracco qua come si chiamava la piattaforma d'attracco perfetto te lo butto qua scusi eh però così facciamo un po' di spazio centriamo tutti benissimo allora ma qua il pesce funziona no perché forse c'era ok solo un lavoratore ne prendiamo dall'estero dall'estero da sì vabbè dall'estero diciamo così grazie prendiamoli permetti consumo locale va bene sì oh allora qua permettiamo il consumo locale qua mettiamo di no qua manca la strada aspettiamo governatore si ok questo lo possiamo fare qua mettiamo la strada perché se no non abbiamo fatto una mazza ok perfetto e guarda qua proprio ci mettiamo anche un bel parchetto due per uno guarda qua che perfezione guardate che bellezza proprio la piazzetta davanti al al molo perfetto ok qua i lavoratori sono tutti qua non permettiamo però in uno dei due non permettiamo il consumo locale dai che così forse ci sbrichiamo prima permettiamo il consumo locale da questo lato ottimo 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 abbiamo completato il raid salva ne prendiamo altri continuiamo a salvare anzi guarda salviamoli tutti va portiamo tutti tutti li voglio tutti salva chiunque bravi così magari eh 51 ragazzi stiamo aumentando finalmente eh ve l'ho detto ve l'ho detto dobbiamo salvare persone dobbiamo portare gente al tropico in modo da aumentare la popolazione aumentare il supporto eh di gente che supporta per l'appunto i rivoluzionari qua fermiamo per il room ok e poi ok per adesso siamo al complesso le assi ce le abbiamo che le stiamo esportando perché è una vita che vedo assi no infatti non abbiamo qua lo annulliamo no aspetta però abbiamo la penalità eh assi allora ci servono delle assi benissimo per fare le assi ci serve questo ok l'area di disboscamento che possiamo andare a fare qua benissimo ok fanno una strada ottimo mettiamo una casa ovviamente ne mettiamo due giusto just in case e poi una volta ne mettiamo due andiamo di segheria giusto usa l'inniame per produrre assi esattamente non ricordo se l'avessimo già secondo me si però vabbè la mettiamo esattamente in questo quadrato così abbiamo tutto tutto qua vicino perfetto qua mettiamo un'altra bella casa oh ma che organizzazione perfetto ottimo mettiamo anche una taverna che è questa per carità di dio alle taverne raga toglietegli tutto ma non le taverne mi raccomando se giocate a tropico non ve lo scordate oh vedete che già il pesce è quasi è quasi pronto grazie alla nostra super tattica oh benissimo qua ci abbiamo il anzi pure così sapete cosa che non ne abbiamo poche molto poche secondo me il coso allora no la rivendita di alimentari dovremmo costruire eccola qua eccola qua ne mettiamo guardate una qua che non ce n'è poi ne mettiamo un'altra in questa zona perché non ce n'è altrettanto qua è finita la piantagione questo lo demoliamo la nostra rivoluzione si dammi gli immigrati dammi tutti gli immigrati che vuoi non ne voglio soldi dammi gli immigrati la rivendita di alimentari qua ne mettiamo un'altra che non ne vedo in zona sinceramente ok 52 vedete vedete ci siamo ci siamo ci siamo emozioni queste sono grandi emozioni qua c'è ok qua ne mettiamo un'altra da questa parte che non ne vedo se non sbaglio devo dire che mi fa piacere si estendiamo quel mandato ok rivendita alimentare ne mettiamo un'altra poi da questo lato perfetto ok abbiamo coperto un po' tutta la zona aspettando un'altra missione di rivoluzionare intanto benissimo dai rivoluzionare dai che siamo belli caldi ti prego dammeli dammi altre qua mettiamo pure una cappella che questi con questa religione sono fissati perciò glielo andiamo a mettere per carità del signore tra l'altro che ci sta anche bene 90% ragazzi proprio il popolo ci adora ci adora il popolo ok creiamo lavoro usa le pelli per produrre cuoio ma non lo so se l'abbiamo questa non credo credo di no guarda glielo butto qua che pure proprio c'entra precisa precisa ok così portiamo più gente ragazzi avendo più gente abbiamo più possibilità di avere persone che supportino il rivoluzionario si si lo completo subito ride bottino subito lo faccio completa ride bottino tutto quello che vuoi qualsiasi cosa ma che mi frega completiamo il ride bottino è brutto che per ride bottino ragazzi vuole un po' più di tempo vabbè ma sti cazzi ma fammi purtroppo non possiamo permetterci di rifiutare nessuna delle loro quest nel frattempo i soldi stanno calando vertiginosamente vabbè sti cazzi l'importante è che andiamo avanti 53% ragazzi ci siamo di più governatore di più ok si va bene ovviamente anche loro ragazzi hanno finito un po' la varietà di missioni ci propinano sempre le stesse ma tant'è vediamo se abbiamo finito qualche cosa commerciale no 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 non abbiamo room il room lo stiamo già esportando no ok possiamo andare esportare il room 900 fermiamo ok le pelli quanto costano non costano una mazza le pelli che schifo la cacao vabbè fermiamo no non acquistiamo niente per l'ora vabbè 52 siamo riusciti vabbè vuoto perché ci servono le pelli ma per fare le pelli che ci serve devo dire che mi fa piacere si si sentiamo il mandato ancora per fare le pelli cosa ci serve la conceria usa le pelli no quindi ci serve qua molo piantagione ranch non lo so effettivamente le pelli ok costruiamo anche un bel forte scusate mentre ci ah no l'abbiamo già fatto perfetto ok niente allora lasciamo stare mettiamo una torre di guardia qua c'è vediamo da quest'altro lato se c'è che tra l'altro dovrebbe mi piacere queste rivoluzioni qua c'è oh le mettiamo un'altra qua ok qua l'abbiamo messa anche perché raga quando andremo a domandare l'indipendenza ovviamente ci attaccheranno qua cosa c'è stoccaggio interno vuoto benissimo perché che fa questo che succede qua ah siamo pieni raga manca ok dobbiamo andare a costruire i cosi qua ufficio per i trasporti dai dai di trasporti taglie di trasporti ecco perché se no qua rimaniamo bloccati ragazzi senza trasporti qua rimaniamo fregati ufficio per i trasporti ne mettiamo un altro da questo lato no no da questo lato non avrebbe uno sbocco aspetta qua mettiamo anche una casa perché vedo che manca ok ok siamo andati abbastanza bene ha un altro ufficio di trasporti non sta ok vediamo se qua c'è qualcosa dove è che manca la sala scusa a questo manca la sala no ok allora lo demoliamo e lo rifamo rotta commerciale completata un governatore di più arresta no 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 questo non lo posso fare mi dispiace no 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 non lo faccio questo mi dispiace non li arresto i rivoluzionari perché sennò no 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 mi dispiace caro mio come ti chiami ma non posso farlo assolutamente assolutamente no non mi puoi chiedere questo chiedemi tutto ma non questo qua mettiamo un altro bel parco caffè oro rum lo andiamo ancora ad esportare ok e mo che stiamo a 50 stiamo lì per arrivare mo tu mi fai restare rivoluzionario e alla fine caro amico mio e e dai qua un bel 2 per 1 lo mettiamo qua perfetto e qua un altro 2 per 1 ci sta bene secondo me anzi no qua ci mettiamo una taverna piuttosto oh abbiamo fatto il raid completato salva una taverna un attimo quando stava qua qua ok e qua mettiamo anche una villa no una villa di campagna ok perfetto allora i raid a che punto sono raid salva no raid bottino scusate l'ho messo si vabbè ce la faremo prima o poi ce la faremo siamo al 53 per cento intanto qua abbiamo risolto non ancora probabilmente non sono sufficienti ne andiamo a mettere un altro un altro ufficio per i trasporti che mettiamo qua dai bello sul mare così proprio lavorano vista mare o giriamo di qua e colleghiamo il tutto così perfetto perfetto mettiamo anche un bel parco ragazzi che il parco ci sta sempre bene due per uno così e un altro due per uno dai e poi qua ne vorrei mettere uno bello un 3x3 più grande che c'è raga un bel 3x3 perfetto è bello avere delle scelte vero oh bene questo si può fare la corona eh ma no che mi arresto i rivoluzionari eh dai eh allora ragazzi allora benessere reddito commissione ma che cosa è questo? eh efficienza 100% qualità di cibo non ce n'è ok questa l'abbiamo completata la richiesta beh hai fatto una cosa giusta si e segniamo ok rivoluzionari ok forse ne abbiamo aperti troppi perché effettivamente negli altri non c'è se non sbaglio non vedo quel simbolo dove sta oh eh si 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 infatti vedete che qua qua c'è qua c'è qualcosa qua no però quindi Probabil Mount non abbiamo abbastanza risorse da questo lato andiamo a mettere magari qualche piantagione qualcosa vediamo se c'è qualcosa oh ananas ci va bene qua è proprio una zona adatta all'ananas questa piantagione caccheo anche il cacao non è male da questa parte ok la mettiamo così anche se so che non è al massimo della no è infatti no ho sbagliato scusi ok la mostra strada da qua ok chiudiamo di qua e questo è purtroppo raga qua ho sbagliato metterlo un po' più in qua vabbè per adesso lo lasciamo così vorrei andare avanti vediamo se riusciamo a completare questa questo ride bottino per i rivoluzionari vediamo se riusciamo a far salire ancora di più il 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 supporto allora abbiamo commerciano i crostaci aspettiamo vabbè famo anche un po' di tabacco e aspettiamo sempre il rum che è quello che ragazzi è più avanzato ci ci da più ricavi ci permette di avere più ricavi ricavi cocco grillo qua cosa possiamo mettere qualcosa maiale ah qua un bel maiale ci sta bene dai un bel maialone mettiamolo qua ok qua sembra una casa non ce la scordiamo ne fanno ben due una e due qua mettiamo una taverna come sempre perfetto e qua mettiamo altre delle piazzette due parchi due per uno ottimo due ok rotta commerciale completata di più governatore di più di sboscamento ok questo si può fare benissimo e mandata la metto però che qua non ci stanno più albri stiamo a distruggere tutto però eh la metà la butto qua guarda te la metto qua te faccio sta strada di qua e così sei contento benissimo famo qua la solita casa ok e qua ci butto la classica taverna benissimo in base al nostro amacco ragazzi abbiamo pochissimi disoccupati quasi nulli i senza tetto dobbiamo aumentare sempre il supporto dei rivoluzionari va bene dobbiamo aumentare anche un po' la fede dobbiamo aumentare un po' la fede raga fornisce fede aspetta non ho sbagliato tasto andiamo di cappella e che è successo qua svago ok taverna dormitorio qua cosa succede ok questa è vuota perché come detto non so non ricordo come fare le pelli allora andiamo a fare un'altra bella cappella allora qua ce n'è una da al nord e qua ce n'erano questa non lo ricordo perché qua è un'altra zona bella densamente abitata ok qua estendiamo favo qua un'altra cappella così magari sono più contenti visto che la fede comunque è molto bassa adesso come 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 supporto mettiamo anche qua una bella taverna da questo lato taverna è una bella uno per uno qua da parco ok perfetto ottimo la nostra rivoluzione è ancora un po' si dammi 10 migrati perfetto aspettiamo l'altra quest ragazzi chiudiamo il video 51 52 perfetto arriviamo 53 vabbè però piano piano stiamo salendo dovremmo riuscire ad arrivare a 54 adesso non ricordavo fosse così difficile sinceramente raga non lo ricordavo benissimo produci pesce mole di pescatore ok questo lo andiamo ad accettare subito allora ragazzi il sopporto è diminuito perché ho dovuto rifiutare un'altra missione da parte della corona che chiedeva di nuovo di arrestare i rivoluzionari quindi il sopporto è un po' calato un attimo andiamo a commerciare al solito il nostro il nostro room poi andiamo di ferro ok che ne abbiamo anche qua a sufficienza dato un attimo andremo a controllare se effettivamente stia funzionando bene la nostra miniera perché è l'unica che abbiamo no non è questa lo sta la miniera si 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 funziona abbastanza bene allora metto un attimo da questo lato un ufficio per i trasporti che vabbè c'è effettivamente però vabbè fa sempre bene anzi io lo butto qua vado lo butto qua è bello avere delle scelte eh si perfetto questo lo possiamo fare senza problemi amico mio allora ragazzi detto questo credo che nel prossimo episodio dovremmo essere in grado non lo so effettivamente se è il prossimo il prossimo ancora di passare all'epoca successiva finalmente comunque bene o male abbiamo capito il meccanismo per far risalire il supporto dei rivoluzionari ma serve tempo ragazzi serve tempo non ricordavo fosse così difficile ma purtroppo serve tempo quindi detto questo ragazzi iscrivetevi al canale qualora vi piacessero questi video mi raccomando è molto importante è importantissimo lasciate un bel like condividete il video e noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video appunto ciao ciao grazie a tutti